Buongiorno, buongiorno e benvenuti, era da un po' che non ci vedevamo, abbiamo fatto delle vacanze estive, più che altro siamo stati impegnati con l'apertura della nuova sede che sulla nostra pagina facebook trovate tutti i riferimenti, vi ricordo che questo link verrà comunque, comunque verrà, questo video verrà ricaricato su youtube, vi metto anche il link in descrizione e niente oggi parleremo di due notizie alquanto disturbanti per quanto mi riguarda e sono abbastanza diciamo di luglio, questa è una notizia del primo luglio come da titolo, una donna, mamma, abbandona, affoggia, lega il cane ad un palo in compagnia del figlio mentre la Catania, un 77enne, una bestia, uccide abbastonato un cucciolo di mare in mano il tutto è stato ripreso da dei passanti, il video dell'uccisione del cucciolo, ciao Marco il video del cucciolo ammazzato abbastonato e per ovvi motivi non lo metteremo, riporteremo la notizia e vediamo anche la legge che dice in questo caso, vi faccio vedere comunque il video della mi lady, della lady che abbandona il cane al palo ed è una cosa straziante vedere il figlio che piange perdonate la lentezza ma sono le 9 per chi rivedrà la live poi su youtube ricordate che sono le 9 quindi niente questo succede a Foggia andiamo col video bambino ignaro di tutto, poverino classico, classico outfit delle tipe che scrivono nata principessa e cresciuta guerriera insomma persone che non hanno minimo senso civico secondo me abbandonerebbe anche il figlio la gentile, poverino il cucciolo questa cosa poi di filmare e non esporsi, io sarei uscito dall'auto il bambino qui si accorde, il video dura poco non si accorde, pare che pianga e lei così si incazza, secondo me si arrabbia pure tira via il cane questa cosa è devastante non so per chi questa notizia insomma è girata un po' pare scusate pare insomma il problema nasce a monte qua chi le ha dato il cane se il cane avesse un microchip io personalmente denuncierei anche chi l'associazione di insomma se l'ha preso da un'associazione che insomma a chi ha dato il cane a questa signora signora a questa questa persona ok non è normale non è normale innanzitutto personalmente far intervenire anche personalmente la mia opinione far intervenire anche gli assistenti sociali perché è una cosa gravissima è una cosa gravissima e soprattutto cosa trasmetti a tuo figlio immagino immagino io poi non sono riuscito a trovare niente su insomma su questa principessa su facebook si Maria assolutamente è il bambino perché bene o male il cucciolo insomma non è stato abbandonato in un posto dove potesse fare farsi male qualcosa forse di fatto è stato subito recuperato pare che adesso sia bene sia stato adottato ma il problema è proprio il messaggio che mandiamo ai bambini o meglio che manda la mamma ai bambini cioè e soprattutto cioè ripeto chi ti ha dato il cane chi ha dato il cane a questa signora signora vabbè tolto questo è veramente è veramente imbarazzante si diceva durante il covid che ne saremo usciti migliori ma quanto insomma quanto vedo non 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 è vero leggevo tempo fa che se non c'è riuscito un diluvio non c'è riuscito il meteorite non c'è riuscito un diluvio non ci sono riuscite due guerre a farci estinguere il covid è stata una passeggiata quindi il discorso il discorso a monte è questo bisogna andare a fondo adesso a questa cosa ripeto devono pagare anche l'affido no un incauto affido possiamo chiamarlo così la legge parla chiaro per legge è vietato dare un cane affidare un cane a chi non è in grado di prendersene cura ok quindi anche l'associazione o i volontari che hanno dato il cane a questa signora andrebbero puniti devono si devono togliere da queste situazioni stiamo facendo un corso per gli operatori di canile che è partito due settimane fa e vi posso dire lo sbattimento di 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 queste ragazze che lo fanno in maniera gratuita e davvero prendono a cuore tutte queste situazioni per quanto io ho delle mie remore su alcuni tipi di di volontari su alcuni tipi di associazioni però vi posso dire che almeno quelle che ho conosciuto io sto conoscendo io sono persone che si fanno in quattro per i cani poi vedere questa situazione insomma è straziante ripeto anche il messaggio anche il messaggio che si manda al bambino ma anche come dire anche a scuola con gli amici c'è un segreto se vuole anche un segreto cioè comunque un peso che il bambino si porta soprattutto se lo dice in giro io spero che la legge faccia il suo corso tant'è che vediamo adesso cosa in teoria dovrebbe passare spero che passi questa questa signora allora e naturalmente il reato di abbandono di animali è nel colce penale ok l'ho messa a custo o meglio l'incauta custodia o la custodia diciamo easy quindi lascia il cancello aperto anche qui Maria il discorso non è questione di fare la multa perché alla fine io capisco anche sicuramente una persona con quell'outfit no sto andando in body shaming puro una persona con quell'outfit una persona che abbandona un cane così davanti con il bambino vicino non penso non penso sia una persona insomma che ci si possa parlare né tantomeno si sarebbe riportato il cane a casa e in ogni caso non è detto che non se lo sarebbe portato e non l'avrebbe abbandonato da qualche altra parte quindi fondamentalmente è andata così io penso mai sarei intervenuto mi sarei preso il cane e insomma ora però bisogna vedere anche il contesto bisogna vedere anche chi ha ripreso parliamo insomma di realtà che si è scossa secondo me non molto facili in ogni caso i volontari se c'è un volontario o se c'è un'associazione che ha dato il cane a questa signora dovrebbe quantomeno essere multato perché si chiama cioè perché è vietato no per legge è passibile di denuncia affidare il cane a chi non se ne può prendere cura ok io capisco che dobbiamo andare i cani può essere pur che il cane l'abbia trovato per strada immagino che non abbiamo anche il microchip in ogni caso reato di abbandono di animale nel corce penale allora se io il mio cane scappa tutti i giorni dal cancello io rischio una multa e sono nel reato amministrativo se invece il cane scappa dal cancello e che è un incidente entro nel penale in ogni caso non parliamo di abbandono ma parliamo di di omessa custodia di insomma di un altro tipo di reato in questo specifico invece siamo nel corce penale ok quindi al di là del fattore etico morale come lo vogliamo chiamare e della figura di merda non volevo dire parolacce se no poi youtube me lo blocca il video però al di là della figura meschina che hai fatto con il tuo figlio del messaggio sbagliato che mandi alla gente e del messaggio sbagliato che mandi a tutto il mondo visto che ti hanno ripreso se la legge fa il suo corso e se le associazioni che si sono messe insieme e si sono costituite parte civile e parte civili non finisce a dare luce e vino dovrebbe passare dei guai seri la signora perché andrebbero puniti per educare tutto il resto della popolazione allora innanzitutto ringraziamo l'avvocato Salvatore Pennisi da cui ho preso questo diciamo questo stralcio del codice penale il dispositivo dell'articolo 727 del codice penale recita chiunque abbandoni abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività quindi parliamo anche di pappagallini serpenti furetti furetti topolini è punito con l'arresto con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da mille a diecimila euro alla stessa pena toggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze il legislatore ciao Merenza il legislatore quindi punisce la condotta di chi abbandona un animale domestico anche delle specie esotiche come nel caso dei rettili quindi come dicevamo prima animali che si sono abituati alla cattività o di chi lo tiene in condizioni incompatibili con la sua natura che li provano con sofferenze il reato di abbandono non scatta solo nei confronti del proprietario dell'animale ma anche della persona che lo ha in custodia o se ne è libera consapevolmente qui ci arriviamo tra un po' la legge tutela tutti gli animali domestici cani, gatti, volati le rettili eccetera ed anche quelli che sono abituati a vivere in allevamento quindi pecore capri asini e cavalli che succede? ritorniamo un attimo sopra il reato di abbandono non scatta solo nei confronti del proprietario dell'animale ma anche della persona che lo ha in custodia tempo fa è successo che un signore ha dato in custodia un cane noi almeno ci ricordiamo bene questa cosa ha dato in custodia un cane che è rimasto ad un signore ad un suo amico che ce l'aveva a catena ok il cane è stato tolto così da questa cosa fu lasciato da noi se ben vi ricordate per qualche giorno anche lì in questo caso chi chi passa i guai se vogliamo dire così insomma chi è responsabile a livello penale è il cristiano che ce l'aveva in custodia che venne lo stesso da noi e disse io non so niente non è mio non è mio non è mio va bene visto che ci siamo arriviamo un attimo più giù arriviamo un attimo più giù detenzione degli animali in condizioni non adeguate e maltrattamento per la legge la detenzione di animali in cattive condizioni equipara l'abbandono quindi parliamo di ammenda da 1000 a 10.000 euro è l'anno di carcere che purtroppo non ci va nessuno perché a meno che non è precedente in ogni caso hai la fede di una penale sporca oltre che la coscienza la signora dovrebbe avere per la legge la detenzione di animali incantive abbiamo detto in cattive condizioni equipara tra l'abbandono e le deponenti con la stessa pena di conseguenza il proprietario di animali che lo costringe a vivere in uno spazio buio e sporco ma anche sul balcone lasciandolo solo per diverse ore poi capiamo anche contestualizziamo la cosa poi io lascio i miei cani diverse ore dentro casa perché devo lavorare ma restate me che così funziona può incorrere nel reato di abbandono di animali il reato di abbandono di animali si configura anche quando chi lo ha in custodia non se ne prende cura e lo lascia senza un adeguato nutrimento ed un'igiene opportuna mettendo in serio rischio la sua incolumità e un giro per alcuni canili me lo farei per esempio ho minacciato questa cosa però un giro me lo farei vediamo al volo vediamo al volo delle sentenze la cassazione nel corso degli anni ha emanato numerose sentenze sul reato di abbandono degli animali ed ha voluto precisare e sottolineare che le gravi sofferenze che integrano il reato di abbandono degli animali non vanno necessariamente intese come quelle condizioni che passano possano determinare un vero e proprio processo patologico bensì anche i meri patimenti cioè quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale procurandogli dolore e affezione ricordiamo un paio fra le più rilevanti parliamo delle sentenze la leggo da qualche più grasso la sentenza numero 18892 del 2011 ha ritenuto colpevole il proprietario che avendo smarrito in modo accidentale il suo cane non si era preoccupato di denunciarne la scomparsa né di ritrovarla quando succede che qualcuno perde un cane che può capitare oddio sarebbe da capire il perché però succede che si perde un cane io la prima cosa che consiglio è di fare la denuncia perché sappiamo che se succede qualcosa morde qualcuno oppure causa un incidente il cane c'è scappato e poi l'ha messa a custodia o l'ho linkato a custodia non ricordo come si chiama bene il reato prevede solo una multa che va da 280 a 500 euro se non ricordo male quindi se noi non andiamo a denunciarne la scomparsa né ci mettiamo in moto per ritrovarlo secondo me incorriamo nel reato di abbandono e ci sta la sentenza l'altra sentenza invece numero 13 338 nel 10 aprile del 2012 ha stabilito che il mancato ritiro di un cane dal canile municipale a cui era stato in precedenza affidato dal proprietario costituisce il reato di abbandono di animali questo avviene quando è prevedibile che il cane dopo un certo periodo di tempo il canile dopo un certo periodo di tempo si libri di tale cane quindi io spero insomma spero che alla signora venga data la massima della pena anche perché ripeto portarsi il bambino dietro e farle assistere a questa cosa ma anche i familiari cioè tu esci con un cane ti ritiri senza cane secondo me è una cosa bruttissima oltre ripeto al messaggio sbagliato che mandiamo ai bambini oltre il trauma ora passiamo all'altra notizia che ritengo abbastanza ancora più greve se l'altro cane è stato fortunato quindi adesso vedevo insomma ho visto dei video dove l'associazione Guerreri con la coda se non ricordo male che si è occupata della situazione l'ha data in adozione l'innaffidamento quindi il cane adesso sta bene e questa è una notizia ancora più grave 10 agosto il fattaccio di foggia dove la signora ha legato il cane al palo è successo all'inizio di luglio ho aspettato un po' anche per vedere se per una volta acceleravano la legge ma a quanto pare le ferie sono per tutti il 10 agosto succede questo uccide abbastonato un cucciolo di pastore maremano denunciato 77enne un 77enne di Acireale in provincia di Catania è stato denunciato per aver ucciso abbastonato un cucciolo di pastore maremano un cucciolo uccide abbastonato un cucciolo credo che sia la cosa più brutta che possa succedere sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i veterinari ASP quindi azienda sanitaria provinciale che hanno tratto in salvo gli altri due cani in possesso dell'uomo un 77enne è stato denunciato dalla polizia del Cireale nella giornata di oggi 10 agosto con l'accusa di aver ucciso abbastonato un cucciolo di pastore maremano adaci platani io credo che uccidere qualcuno abbastonato sia la cosa più brutta che possa succedere perché non muore subito non penso che il cane sia morto subito poverino ok vabbè è un animale questo cristiano penso che sicuramente potrebbe uccidere una persona perché se uccidi un cucciolo un cucciolo e posso fare un cane grande ti spaventa di paura reagisci ci può succedere un incidente ma uccidere un cucciolo ha un cucciolo di pastore maremano adaci platani e mi sto mantenendo mi sto mantenendo perché ne vorrei dire di più a questa persona ma anche alla famiglia perché si vede se un tuo parente è una bestia perché questo è una bestia adaci platani in provincia di Catania ad alertare le forze dell'ordine e i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale sono stati alcuni vicini di casa dell'uomo dopo aver assistito alla scena dei balconi anche in questo caso come fai ad intervenire che questo pazzo sta uccidendo un cucciolo ripeto non è un cane grande cosa che insomma anche lì non è che sia da non condannare però un cane grande tu dici guarda mi sono spaventato un po' mi sono spaventato ho reagito ho avuto una reazione esagerata ma un cucciolo ma un cucciolo cioè va bene hanno assistito tutta la scena dei balconi fortunatamente gli altri due cuccioli in suo possesso prima avrebbero ucciso anche loro sono stati tratti in salvo sulla vicenda si è espresso il coordinamento provinciale del partito animalista italiano vabbè per voce del suo dirigente Patrick Battaglia quello che è successo nelle scorse ore ad Aciplatani ci lascia interdetti c'è da rimanere interdetti c'è da arrestare questa persona da mandarla ingalire un gesto perché sicuramente è pericoloso per la società una persona così è pericolosa per la società ed è un animale ed è una bestia quello che è successo nelle scorse ore ad Aciplatani appunto ci lascia interdetti un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile un atto brutale che noi condanniamo fermamente non c'è da condannare c'è da denunciare questa persona e farli passare in guai togliergli tutto quello che ha e mandarlo ingalire vabbè qualche pubblicità mettendo vabbè i cuccioli sono la foto non sono i cuccioli che stavano là la cosa è molto preoccupante perché una persona così potrebbe far male ad un'altra persona ed è secondo me pericoloso per la società poi fatemi togliere questo video in ogni caso vediamo cosa cosa dice la legge in questo caso dispositivo dell'articolo 544 bis del codice penale chiunque chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni ricordiamo che fino a 24 mesi in Italia se sei incensurato in galera non ci vai però io per adesso ti do una misura cautelare quindi ti appioppo questi due anni alla prossima cosa che fai ti fai quei due anni più tutto il resto ripeto ripeto secondo me gente così è pericolosa per la società una mamma che esce con il filo e il cagnolino e lega il cagnolino ad un palo pur vedendo insomma il problema pur vedendo insomma la reazione del bambino non è una mamma gli andrebbero secondo me dovrebbero intervenire assistenti sociali e e soprattutto andrebbe andrebbero puniti col massimo della pena stesso discorso per questo animale di 77 anni se l'hai fatto perché sicuramente non sarà stata la prima volta per uno che uccide così un cucciolo sicuramente l'avrà fatto anche prima ora che le associazioni si mettano e si costituiscono parte civile va benissimo l'importante è che non devono far scemare l'attenzione non devono far svanire o non devono far come dire finire tutta la terra luce e vino come è successo con quelli altri tre animali che impiccarono quel cane angelo non so se vi ricordate in Calabria che per la cosa è finita lì non è successo più niente quindi bisogna tenere alta l'attenzione perché queste persone sono pericolose per la società questo questo è io è imbarazzante leggere queste notizie specie se appunto ieri per esempio stavamo facendo il corso con i ragazzi che fanno volontariato nei canili e vedi quanta 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 frustrazione c'è in loro perché sbattono dalla mattina alla sera sia contro le istituzioni che contro la gente allora io posso capire se non vuoi più il cane lo porti al canile e dici no posso tenere più abbandonarla ad un palo ma la cosa più brutta ripeto è portarsi il figlio dietro non mi esprimo ulteriormente ripeto su quell'animale che uccise il cucciolo a bastonate perché secondo me l'avrà fatto anche prima quindi andrebbe andrebbero puniti pesantemente entrambi detto questo niente grazie insomma per aver seguito questa questa piccola live vi lascio in descrizione i link iscrivetevi al canale youtube e niente continuate a seguirci sulla sulla pagina buon rientro quindi ben rientrati dalle vacanze e ci vediamo ci vediamo presto grazie buon giorno